Trasferte impegnative per Messina e Giavirtus che giocheranno rispettivamente in casa di Nocerina e San Cataldese. Due partite che costituiscono un importante banco di prova. Il Messina giocherà al San Francesco di Nocera ancora senza il 22enne difensore francese Ivan Inzudin per il quale non è ancora arrivato il transfert dalla federazione transalpina. Il giocatore che ormai da due mesi si allena in riva allo stretto era stato infatti tesserato dal Gengamp. Mister Modica con tutta probabilità getterà nella mischia a ragosta fin dal primo minuto. Ultimo successo giallorosso a Nocera nell'era scoglio. Era il 1984 e la vittoria firmata dalle reti di caccia e catalano rappresentò anche il primo successo della presidenza Massimino. A San Cataldo l'Igea Virtus cerca di mantenere la seconda posizione dopo aver agganciato domenica scorsa proprio la Nocerina sconfitta a Vibo. I giallorossi cercano il successo ma di fronte troveranno un avversario desideroso di riscattare la sconfitta rimediata nel turno precedente a Palmi in seguito a una sfortunata autorete del portiere. In eccellenza la capolista città di Messina dovrà difendere il primato in casa del Caltagirone. Occhio al Biancavilla che però dovrà vedersela con il Camaro. Il città di Sant'Agata ospita invece lo Scordia. Infine il Pistunina riceve la visita dell'Atletico Catania.